La piscina Facchini di Via Togliatti e il visionario sotto passaggio stradale su Viale della Vittoria sono stati due temi che hanno catalizzato l'attenzione dell'ultimo Consiglio Comunale di Pesaro. Piscina che è stata parte integrante della variazione al bilancio di previsione presentata dall'assessore a rigore Andrea Nobili. Un impianto che è recentemente stato arricchito dall'essere diventato Casa VL e che prevede ora 7 milioni di mutuo a tasso zero attivati dal Comune con l'Istituto per il Credito Sportivo per permettere all'amministrazione di acquistare completamente l'area finora ceduta alla Federazione Pentathlon. Per Nobili si tratta di un'operazione che consentirà di portare avanti l'iniziativa parallela legata al bando che ha consentito di ottenere 4 milioni di euro di finanziamenti dalla Federazione Basket. Per una piscina da completare c'è un'altra opera ancora tutta da progettare e che continua a dividere e far discutere. Si tratta della cosiddetta Rambla, appellativo affibbiato da Ricci all'idea di creare un'unica grande passeggiata fra centro e mare attraverso l'interramento di Viale della Vittoria all'altezza di Viale della Repubblica realizzando un sottopassaggio per il traffico veicolare. Dalle idee ventilate, ora il Consiglio Comunale è passato all'inserimento di 6 milioni di euro per la realizzazione del progetto. Rambla che è stata inserita all'interno della variazione al piano triennale delle opere pubbliche 2022-2024 presentata dall'assessore al fare Riccardo Pozzi. Per Pozzi il momento di difficoltà sui conti pubblici per via degli aumenti dei costi dell'energia non toglie all'amministrazione il dovere di continuare a ripensare e riprogettare la città per farsi trovare pronta a intercettare nuovi finanziamenti. La variazione è passata fra la contrarietà di diversi consiglieri di minoranza, da Dario Andreoli a Daniele Malandrino fino a Giulia Marchionni il dichiarato invito ad un ripensamento alla Giunta verso un progetto reputato fuori luogo rispetto alle priorità attuali e per il quale sono stati già spesi 100.000 euro di progettazione e per il quale difficilmente basteranno 6 milioni di euro.